Avrebbero segnato. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato bene l'assist all'indietro del compagno. Situazione di due contro uno che ha poi permesso di infilare il portiere. E' lasciato solo nella circostanza. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. World. Novità Bramallain. Andiamo a sentire. Seconda rete della partita per Laston Villa. Punteggio che ora è sul 2-1 alla mezz'ora di gioco. D'accordo, grazie. Occhio al contropiede. Con questa palla e punta la porta. Pericolo. È rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara. Anche a me è sembrato che fosse completamente fuori tempo. Poi l'arbitro era vicino all'azione. Non mi pare ci siano dubbi su questa decisione. Arbitro che assegna il calcio di rigore. C'è il cartellino giallo. Giallo per il difensore. Decisione corretta. Giusto sanzionare il fallo con un penalty. Un penalty perfetto. E ci viene riproposto il penalty con questo replay. Ha guardato il portiere negli occhi fino all'ultimo. Glaciale ha visto che stava andando in una direzione e ha optato per la soluzione centrale. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per due reti a zero. Avazza col pallone tra i piedi. Occhio da lì. Ha sprecato una palla con da ottima posizione. Praticamente un passaggio. Sa di aver commesso un errore grave. Non si dà pace. Ward. Nessun pericolo. Pallone che supera la traversa. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Palla vagante adesso. Prosegue qui dell'avanzata. Oh no ma! Una grandissima parata questa. Occasione della bandierina. Occhio al pallone in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Traversione al centro. Pallone in gioco. Attenzione. Interviene e sventa il pericolo. E dopo 45 minuti di gioco. Dunque 2 a 0 il punteggio. Comincia ora il secondo tempo. Baragna metri. Occhio alla palla goal. Prova la botta. E c'è il goal! Palla in rete! Replay che evidenzia la pessima chiusura della difesa. Si sono involati verso la porta e non hanno avuto nessuna difficoltà a far goal. Hanno aumentato il vantaggio grazie al goal del 3 a 0. Prova a servire profondo il compagno. E c'è il goal! Segnano ancora e allungano sugli avversari. A questo punto una rimonta diventa praticamente impossibile. Partita che assume ormai una fisiologia. Sì! 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 Bello! Sì! Grazie a tutti